Montorio Alvomano, uno tra i comuni più belli d'Italia, sta subendo uno spopolamento senza precedenti. Si stima una cifra del 60% di residenti in meno, complici malefici, il terremoto, il dissesto idrogeologico e l'antico borgo perde giorno dopo giorno cittadini e attività commerciali. Attualmente la situazione è drammatica perché per quanto riguarda il commercio, gli eventi sismici ultimi hanno creato veramente lo spopolamento di tutta la popolazione, non solo del paese ma anche di tutta la vallata, quindi da Campotosto fino a Montorio c'è stato proprio questo spopolamento verso la costa di tutti gli abitanti, la maggior parte degli abitanti. Conto non ho dati, circa il 60% a mio avviso della popolazione manca nel paese di Montorio Romano. Voi che cosa chiedete? C'è un promesso che a metà gennaio, al massimo, fine gennaio, ci sarebbe stato un bando necessario per la ricostruzione delle attività commerciali a Montorio, quindi un bando a fondo perduto dove prevedeva nuovi progetti e l'ampliamento delle attività esistenti. Naturalmente non c'è stato, non se ne parla neanche più. La zona franca che sì, sicuramente è un aiuto, non indifferente, perché la zona franca per il 2017-2018 significa eliminare gran parte di tutti i tributi, ma naturalmente senza un incasso eliminare i tributi. Insomma, veramente non sappiamo che farcene. Attualmente sul corso Valentini e eventi negozi abituali ne sono sopravvissuti solo cinque. Il mercato settimanale, apprezzato e frequentato da clienti provenienti dall'intera provincia, non viene più fatto in centro, zona definita rossa e quindi pericolosa. Ma questo decentramento ha dimezzato presenza e ricchezza complessiva della comunità montoriese. Noi pensiamo che è l'unica medicina necessaria, perché in questo caso non c'è bisogno dell'aspirina, cioè c'è bisogno di una dose massicce di antibiotici, quindi un indendizzo cospicuo per poter ripartire, altrimenti non c'è possibilità.